Aspetta, adesso sta partendo, vai Terza parte di questo video e andiamo Vieni qua subito al teletrasporto No, vado in giro Ecco, è deficiente, non è contento Le Claymore devo metterle giù Ma chissà, se li possono potenciare magari le metti in mano Eh, magari proviamo Proviamo Ma non puoi Che cazzo lì, ci hai provato? No Allora, no, no Eh, se funziona, va bene, mi ha scoperto super Al prossimo, oh cazzo Ci penso io amico No, devo fare qualcosa, devo fare punti E ciao adesso, siamo morti Non becca un cazzo sto cazzo elegante Su, 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 su Granate Non trova se potenciava Quattro, magari che cazzo Vai a potenciare sto cazzo arma Non c'ho punti Ah, è vero Quattro, meno le cento, figo Se riusciamo a durare al prossimo round Dai, butta, butta lo giù Non ce la facciamo, è inutile Butta giù te le granate, ce la fai No Al prossimo round Dai che ce la fai Dai veloce, veloce, corri Adesso scommetti che non me la la Adesso andiamo via Veloce, prendila Che culo Che culo Super culo Non ce le granate Non ce le granate Non ce le granate Io ce le ho Ho preso anche il filmato Atta cazzo Sia bene Oh, oh, aiuto Corrite Attivano la trappola Attivala No, io non voglio Spiegare appunto Attivo io Attivata, vieni Qua siete le cazzo Spari Tu qua, aprimi la Io faccio su un po' di culi Sparano gli altri Facciamo questa Ah, c'è anche te la U Diciamo perché c'è la potenziata Qua se siete intelligenti Sì Lo sparate Lo sparate Lo sparate qualche colpovere se c'è qualche E aspetto, dobbiamo essere qualcuno per ricaricare le cose Io vado già a fare l'eroe Oddio E' finito, ecco, sei un coglione, è finito Ma Non è colpa mia Eh no No C'è te lo sparare Tricido C'era la trappola Sarebbe arrivato comunque Ah, me lo vado Cani, a teletrasporto dove era dove eravamo prima Ma a che teletrasporto, faccio l'eroe io C'è bene Ecco, su Bocca, va O Nicolai, stravullo Io sono nelle poste, no Figano di vecchio, ma è questo cazzo che sto ragazzo Fa che io sono intelligente, vado qua dietro che invece, no E qua posso Io ricarico Vai, vai Vedi qua, non ti cagano C'è che non prendo la ricarica massima No, sto ricaricando E' una mia ha fatto scuolgere le cose Ma adesso La crema Figano lì vecchi ma è questo cazzo di cosa qua regalo Ricarico Fa il tuo record Eh? Il tuo record Sembra 21 Questo va di qui Aspetta Ricarica, ricarica Aspetta Vai Attivo Aspetta Attiva Mi butto giù tutte le mine che so Ma no, dobbiamo andare ad attivarlo Eh vai corri Sto andando Ho messo giù un bel po' di mina adesso Metto giù anche un po' qua Se messi che dopo lo dovrà scappare giù Come c'è di solito Teletrasporto vai Ci siamo in seguiti Andiamo tutti al tetrasporto? Tutti siamo in due Eh io c'ho anche le simiette adesso Cacchio, vedo che c'è il simietto Non c'è mai freddo Dai vieni Dai, butto la simietta No, non fai l'idioto Dai E dai, ce l'ho quattro Ma no, serve per quando Ce l'are Devi Deviverli Andiamo Perché andiamo Perché stanno cominciando a arrivare troppo per i miei gusti Ma bene Quando termina punti prendo gioco di prestigio per quella RK A caricare Non stai sapendo anch'io Ok I bonus qua sono quattro C'è il rianimatore quello che è Il juggernaut Che sarebbe vita doppia Gioco di prestigio e carico veloce E double tap Che credo che sia Che sottosparino le zombie un colpo e loro ne sentono due Non so Diventano deficienti, non lo so cosa esattamente Aspetta Utilità Tiro indietro un po' così si vedono tutti e due gli schermi Ah, bravi Oh, 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 oh Non ho messo mica il vigio, cassa Non ho messo mica il vigio, cassa Non ho messo mica il vigio, cassa Non ho messo mica il vigio Granate Gioca le bombigliano Gioca le bombigliano Una messo a buttata quasi addosso, lo sai? Oddio, devo già andare Scappiamo, guarda che ho messo sulle cremor Aspetta, c'è ricarica massima Quindi Sono morto, Alessi Salvami Salvami No, dai cazzo che c'ho Guarda che sono qua Quelle si mette buttate Vieni, vieni, dove sei? Sono di sotto Arrivano Sono morto io adesso Sono morto Figa, Alessi Sono morto Riesci a coprirmi Riesci a coprirmi Eh? Sì Quanti ne hai ancora? Coprimi Coprimi No, no Dove sei? Aiuto Scappa, scappa Che spiegati Siamo morti E dai il 16 round Aveva il mio record è 23 E dai che se ne fotte Arrivederci e alla prossima Guardate, io sono quello che ha fatto più cisgine Guardate, guarda Guarda, guarda Dai, non fate vedere, dai